Gian Piero, peccato un po' per il risultato, però devo dire, partiamo subito dal presupposto, l'Udinese è stata all'altezza di un grande palcoscenico europeo, la Champions, e poi abbiamo in casa la gara di ritorno da giocare a grandissimo livello. Sì, un buon risultato senz'altro, siamo riusciti a portare un buon pareggio con gol, contro sicuramente un'ottima squadra, è dimostrato di essere una squadra che gioca un grande calcio, c'è un grande possesso palla, noi sapevamo bene che ci potevamo mettere in difficoltà, e così è stato, noi abbiamo cercato di mettere tutto quello che avevamo, il cuore e tutto il resto. La partita è ancora tutta aperta, c'è il ritorno da giocare, adesso è in casa nostra, quindi abbiamo forse un piccolo vantaggio da non buttare. Analizzando la partita, bene il primo tempo, bene anche l'inizio della ripresa dove avete sfiorato anche il raddoppio, poi è uscito un po' fuori lo sporting, come era anche logico aspettarsi? Sì, hanno un po' accusato il colpo dopo l'1-0, poi sapevamo bene che loro al secondo tempo cercavano sicuramente di trovare la via del gol e buttarsi in avanti, noi volevamo approfittare di qualche buco che potevano lasciare, abbiamo fatto una partita a livello difensivo straordinaria, perché loro ce ne hanno messo molta pressione, solo purtroppo un euro-goal del terzo e sinistro ci ha fatto così che loro raggiungessero il pareggio, come ho detto la partita è ancora aperta, loro sono un'ottima squadra, ma noi non siamo do meno. Ecco, il 28 c'è la gara di ritorno, deve essere una bolgia il Friuli? Sappiamo bene quello che ci dà il nostro pubblico in casa, sarà sicuramente una giornata di festa, di gioia e speriamo di regalare un sogno a noi e a tutti i nostri tifosi. Possiamo dire in conclusione però che è tutto nelle vostre mani, nelle mani dell'Udinese? Beh, abbiamo un piccolo vantaggio con la partita ancora aperta, abbiamo fatto un gol fuori casa, come ho detto vuol dire tanto ma forse non vuol dire neanche niente, le partite si giocano sul campo e il ritorno sarà sicuramente una battaglia.